Sono quattro i bambini profughi dell'Ucraina che sono stati accolti qui a Chieti nelle scuole. La prima scuola è il comprensorio 1 con la preside che ha ancora i segni dell'emozione. Come sono stati accolti e come hanno reagito questi bambini? Allora innanzitutto è vero, i segni dell'emozione ci sono, ci sono stati ieri nel momento dell'accoglienza, ma rimarranno a lungo perché questa è una vicenda umana che ci tocca e ci tocca in quanto cittadini d'Europa, in quanto dotati di quella grande capacità che è nostra peculiarità del popolo italiano di dare il cuore e di far fronte veramente alle necessità e alle emergenze più atroci. È stato così quando noi abbiamo vissuto un secondo conflitto mondiale, siamo stati accolti da altri popoli ed è così per noi, siamo un popolo veramente grande e mirabile sotto questo punto di vista. L'accoglienza è stata ieri un'accoglienza magnifica, come solo i bambini, anime pure, sanno fare nei confronti dei loro pari, delle loro creature. E non è un caso che proprio ieri, data in cui 17 marzo ricorreva il 161esimo anno dell'Unità d'Italia, questo si è verificato. Altri bambini sono in arrivo che saranno accolti nella scuola di Brecciarola? Assolutamente sì, abbiamo notizie anche perché noi siamo confortati da una grande sinergia che è quella del comune. Il mio enorme ringraziamento va anche all'ufficio scolastico regionale Abruzzo, che è sempre prodigo di conforto e di aiuto e di sostegno. Ciao Veronica, come avete accolto questi nuovi bambini dell'Ucraina? Allora, noi abbiamo tradotto in ucraino la scritta benvenuto ed erano di 14 lettere, ogni lettera era su un foglio. Mario, tu come pensi di voler aiutare questi nuovi amici? Vorrei intanto aiutarli per accoglierli e dargli un grande benvenuto, aiutarli a far scordare la guerra e quello che ha passato. E poi vorrei, quando riuscirò a parlare un po' russo, di volerlo invitare a giocare a casa. Grazie.